Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone né pane né sacca né danaro nella cintura ma di calzare sandali e di non portare due tuniche e diceva loro dovunque entriate in una casa rimanetevi finché non sarete partiti di lì se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse scacciavano molti demoni ungevano con olio molti infermi e li guarivano Parola del Signore Oggi 11 luglio è non solo domenica anche la festa di San Benedetto da Norcia il patrono dell'Europa chiediamo a San Benedetto il maestro di tante generazioni di monaci di aiutarci e di introdurci nella parola di Dio e in questa parola oggi Gesù manda i suoi dodici a due a due a predicare e a combattere gli spiriti impuri combattere il male li manda in missione è molto bella questa cosa perché il Vangelo di Marco soprattutto ma anche gli altri continuamente ci dicono che gli apostoli non avevano capito fino in fondo le parole di Gesù eppure lui li manda non sono tra virgolette preparati formati pienamente eppure li manda la missione fa proprio parte dell'esperienza cristiana dell'esperienza con Gesù se sei con Gesù a un certo punto devi partire per la missione diciamo così non nel senso che chissà deve andare in Africa o in Asia se hai la vocazione magari anche ma sicuramente il Signore ti manda con i tuoi limiti con le tue capacità poche o molte con la tua fede piccola o grande il Signore ti chiama ad andare andare e andare senza niente e ordino loro di non prendere per il viaggio niente un bastone né sacca né pane né denaro i sandali ma neanche due tuniche per cambiare come dire andate senza niente solo con un bastone e con un amico un amico che non è solo un altro testimone per la legislazione ebraica bisognava essere in due a testimoniare per una diciamo fatto in modo che fosse creduto ma l'altro non è solo un testimone è un compagno è un amico come dice padre Ronchi su cui appoggiare il cuore un bastone per appoggiare il corpo un amico per appoggiare il cuore e così li manda poveri senza mezzi liberi affidati alla provvidenza entrate in una casa se vi accolgono e se non vi accolgono voi testimoniate e andate e proclamano e scaccia e proclamano il Vangelo e scacciano i demoni cioè lottano contro il male ungono gli infermi guariscono il Signore dà il potere della guarigione ecco questa è l'essenza della Chiesa anche noi siamo chiamati a essere così testimoni poveri, testimoni con i loro limiti appunto testimoni che cercano di se non siamo capaci di guarire però almeno di consolare, di asciugare le lacrime di lenire le ferite, di fare la pace con aiutare a fare la pace con la propria storia, con i propri limiti perché la misericordia di Dio è più grande quello è il nostro tesoro non abbiamo bisogno di tanti altri mezzi importanti abbiamo bisogno di annunciare la misericordia di Dio un amore sconosciuto ai nostri occhi e questa è la nostra missione da fare più con le opere, più con lo stile di vita che con le parole come dice San Francesco ai suoi frati annunciate sempre il Vangelo se occorre anche con le vostre parole